Buona giornata! Oggi Mark Twain ci insegna una cosa fondamentale. Lo so, lo dico sempre, sono tutte fondamentali, però effettivamente anche questa è una cosa fondamentale per la tua pace e quindi per il raggiungimento dopo della tua felicità. Dà a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain. Eh beh, è che ve lo dico a fa' dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Sì, anche se quella giornata è cominciata male, non lo so, perché magari piove oppure perché comunque non è cominciata bene perché quel collega ti ha dato noia, ti ha dato una cosa da fare che non volevi fare. Ok, ma dai ad ogni giornata, ogni giornata, la possibilità. Perché magari alla fine la ricorderai come la giornata più bella, perché è successa quella cosa, perché quella persona ti ha detto quell'altra cosa. Anche se all'inizio questa giornata sembrava cominciata male. Ma a te, dagli la possibilità di riscattarsi. Perché ogni giornata ha in sé il germe della felicità, della pace, della forza e della gioia dell'amore. Tutto ogni giornata ha il potere per essere la più bella della tua vita. Oh, che bello! Quindi oggi dai la possibilità alla giornata di oggi di essere la più bella della tua vita. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao! 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 Ciao!